E' super gg ragazzi eccoci qua in un nuovo video una cosa che mi state chiedendo in tanti e dove sono le sfide arm per ottenere i picconi di Hulk ragazzi i picconi di Hulk nella beta di marvel's avengers In questo breve video vi spiegherò dove potete trovarle ragazzi per i giorni che vanno dal 14 al 16 per playstation 4 ragazzi potremmo giocare la beta di marvel's avengers E' un'altra possibilità un'altra ondata di gioco ragazzi dal 21 al 23 sempre di agosto le sfide si trovano all'interno della beta Basta recarsi nel playstation store digitare avengers beta o marvel's avengers beta e troverete il gioco da scaricare Una volta scaricato ragazzi entrate dentro logate attenzione di aver collegato prima i vostri account epica square enix Vi lascio ragazzi il video tutorial qua sopra nella scheda e qua sotto in descrizione andate a vederlo se non avete ancora collegato i vostri account Iniziamo la beta iniziamo a giocare ragazzi vorranno un bel po' di ore di gioco soprattutto per andare avanti nella story line Arrivare al punto del gioco dove troveremo le nostre sfide le sfide che ci interessano Quindi attenzione ragazzi le sfide non sono a parte non è che le trovate entrate nel gioco trovate sfide per il piccone No ragazzi dovete completare dovete giocare alla beta a un certo punto del gioco troverete un punto dove vi darà queste sfide Sono le sfide arm troverete un tavolo appunto un tavolo delle sfide dove là ci sarà un ologramma una navicella fluttuante Là ci saranno le sfide sono ben tre sfide da completare Sono sfide che andranno completate in una stanza di simulazione di combattimento Si potranno fare in gruppo con una sezione di matchmaking Una volta completate queste sfide sfida 1 sfida 2 sfida 3 vi apparirà una scritta Vi dirà che abbiamo riscattato i nostri picconi Basterà accedere su Fortnite per riscattarli Vi arriverà anche un email nella vostra email che vi dirà la stessa cosa Non ci resterà che loggare su Fortnite e troveremo i nostri picconi ragazzi Con ben due stili selezionabili Ragazzi spero di esservi stato d'aiuto Mi raccomando ragazzi vi ricordo che se volete supportare questo canale, questi video, le live Potete inserire il codice creatore Fede Pia nello shop di Fortnite Se volete ragazzi mi raccomando Iscrivetevi al canale Lasciate un bellissimo like E commentate, condividete tutte quelle cose che già sapete E nulla GG Sopra quella casa ci sono tre persone Sì, li prendo a punta Eccoli Vai, vai, vai Vai, vai Aiuto Attento che Una terra Una terra E attento l'altro mi sta Ok, mi devo curare All I want it All I want it